Gli hanno dato decine di coltellate, gli hanno spaccato la testa, i denti ammartellate. Sono cose che non riesco neanche a concepire. Ho orrore al pensiero di quello che sono riusciti a fare. Sono invece arrabbiato con Luca perché lì non doveva rancci. Mi sveglio la notte e non riesco a riappormentarmi. Mi sveglio continuamente e guardo il cellulare sperando di trovare un messaggio di Luca. Mi sento triste. Ti andro senza un perché. Le cose che gli hanno fatto sono atroci, orribili, inspiegabili, incomprensibili per un essere umano normale. È stato torturato in modo atroce. Gli hanno dato decine di coltellate, gli hanno spaccato la testa, i denti ammartellate. Sono cose che non riesco neanche a concepire. E poi aggiungo, non sono arrabbiata con quelle due persone, si riferisce ovviamente agli autori di questo amareo. Di loro ho solo una grande paura, orrore al pensiero di quello che sono riusciti a fare. Sono invece arrabbiata con Luca perché lì non lo vieno a rancci. Grazie. 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 Grazie.